Entrata in vigore la scorsa primavera la riforma sul condominio. Si tratta della nuova legge dell'11 dicembre 2012 numero 220 su modifiche alla disciplina del condominio negli edifici pubblicata sulla gazzetta ufficiale numero 293 del 17 12 2012 in vigore dal 18 giugno scorso. Una riforma che interessa circa 30 milioni di italiani e alcune migliaia di amministratori condominali. Accesso agli atti, nomina obbligatoria quando i condomini sono più di 8, animali domestici, antenne, videosorveglianze, la disciplina del rito della media conciliazione in materia di condominio con relativi obblighi dell'amministratore, l'applicabilità della legge al supercondominio sono alcune delle più rilevanti novità. È da anni che si attendeva una riforma un po' complessiva sulla materia del condominio. In realtà bisogna dire che non c'è stato una rivoluzione copernicana così come si poteva aspettare. Purtuttavia bisogna considerare che la vecchia normativa che risale ormai al primo codice civile ha tenuto conto ora con la riforma di quella che è stata l'evoluzione che man mano la giurisprudenza grazie anche all'intervento dell'avvocatura e della magistratura nel tempo è venuta a creare in materia di condominio. Adesso la materia estende un po' la normativa tenendo conto anche di quelle che sono le ultime novità, la multiproprietà, il megacondominio esistenti perché spesso e volentieri noi vediamo dei plessi, villette che sono realizzate a schiera ma che in realtà costituiscono a tutti gli effetti il supercondominio, quello che viene considerato come supercondominio. Così come vengono introdotte anche nuove novità in materia di suddivisione delle oneri di spese, soprattutto la possibilità per il condomino di staccarsi da impianti centralizzati o meno o comunque l'onere mantenuto di partecipare almeno in parte a quelle che sono le quote di spese. Quindi ancora non abbiamo neanche i primi accenni giurisprudenziali tenuto conto che con la sospensione anche del periodo feriale non ci sono state ancora pronunziamenti in tal senso. È una materia che comunque lascia ancora aperte molti spiragli e soprattutto non ha appianato alcune divergenze già preesistenti con la normativa e ritengo che anche la nuova normativa creerà ulteriori contenziosi non indifferenti per quanto riguarda appunto i contrasti con gli amministratori e tra i condomini stessi.